Bella voglio bentornati sui napoli football ragazzi veniamo da una strepitosa vittoria su liverpool alla prima in divisione 4 bene così abbiamo fatto un bel esordio in questa divisione adesso ne va a cercare subito il prossimo avversario e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di questa scalata alla divisione 1 con soli giocatori del napoli detto ciò vediamo chi ci capiterà in questa puntata vediamo se riusciamo a continuare su questa scia e sarà napoli milan di divisione 3 già addirittura ci regala senza alcun tipo di senso il sistema un avversario di divisione 3 noi siamo ancora in divisione 4 siamo alla seconda partita di divisione 4 va bene divisione 3 i nostri ragazzi stanno tutti bene ok mi toccherà allargare un po' qual è il gioco perché il ragazzo qua gioca abbastanza centralmente va bene così è approdato in divisione 3 abbiamo un altro po' di strada da fare osimena palla per lobo questa volta andiamo da anghissà che di tacco vada di lorenzo palla per politano che vada anghissà si gira praticamente verso gilberto silva che adesso prova a ripartire di lorenzo cerca anghissà allunga per politano prova a fermarsi politano fermato da pasquale gullit se la riprende politano fa la nostra pure politano vada osimena che prova a spizzare verso caraschela che poi spara michael parata di michael attenzione mario lui non riesce a saltare qui raccomani si palla per anghissà sbagliato io qui brutta giocata riescono ad andare di lorenzo in chiusura bella chiusura qui ziedis chi allarga per mario lui scende lui dentro mario lui mario lui dentro vada caraschela che può penetrare caraschela si ferma clara sbaglia tutto clara volevo fare un delimino che non è riuscito si parte digno torna zilischi su di lui riescono ad andare da romario lotta lo bocca romario si ferma attenzione romario lo bocca vince lui e spazza dall'altro lato verso politano però la peggio chiaramente nel gioco aereo adesso arriva gullit gullit meret la palla resta lì incredibile mamma mia naci c'è peson palla ancora per il gilberto silva va a chiudere di lorenzo giannino di lorenzo con una grandissima chiusura scende di lorenzo alza questo pallone verso politano intera fare arriva ancora di lorenzo anghi sta palla per osimena tacco per zilischi prova a ritardare lato simen che entro simen ancora dentro perché questa cosa la volevo dare a zielo perché perché volevo da zilischi vabbè michael rilancio lungo lo bocca deve saltare sul romario ci riesce solo parzialmente purtroppo a recuperare palla attenzione anghi sta torna raccomani su neymar prova a passare neymar raccomani provano aspettarlo si ne va raccomani e c'è ne va neymar volevo dire anghi sta scende da manchissà vada matteo politano politano alza questo pallone dall'altro lato verso quara schelia niente da fare michael può rilanciare ancora lungo lo bocca palla per anghi sta circa politano palla troppo letta attenzione torna natan e magia di neymar e poi ce la capiamo alla grande con un po di culo qui poi osimena palla per zilischi zielo prova ad andare da zilischi zielo pazzi rischi va da zilischi ragazzi attenzione romario meret inizio un po un po sottotono da parte nostra attenzione di lorenzo prova a chiudere i passaggi ci riesce 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 addirittura ad andare da politano che appoggia d'anghi sta prova a tornare da politano passaggio troppo telefonato ragazzi stiamo sbagliando troppo queste cose e poi golli dalla distanza stavolta golletta non sbaglia 1 a 0 milan troppo spazio lì in mezzo questo è un errore quasi incomprensibile per così me lo bocca e pensione lo bo scende lo bova dentro da vittorosi man si giro si ripese i dischi rientro subito per quara schella che può penetrare quara schella niente da fare la palla resta lì non riusciamo però a ripararla in attacco contropiede milan racmani prova a chiudere neymar di lorenzo su neymar se ne va neymar troppo facilmente torna anghi sta di lorenzo prova a scendere di lorenzo appoggia verso i dischi che vada a giocare a schella va da mario lui scende lui dentro per quara va quara ritorna da mario lui scende ancora mario lui che può costare in mezzo verso simen niente da fare anghi sta non riesce ad andare a colpire di testa palla dentro stava salendo nata non so perché va digno fino in fondo 20 contropiede perfetto così meno male così fina dura no sa bene queste cazzate però attenzione digno torna nata indigno racmani e cura palla ziedischi prova ad allargare per mario lui caraschella dribbling di cara se ne va gliccia caraschella vede dentro vittorosimene gran palla di caraschella per osimen osimen la parata di smaicol incredibile incredibile di lorenzo prova ad andare da politano cerca dentro anghi sta si gira anghi sta prova ad andare da ziedischi gilberto silva chiude alla grande attenzione gullit va dentro gullit fa un po il cazzo che vuole gullit palla dentro di lorenzo si mette bene posizionato qui politano anghi sta credibile qui i ragazzi romario mamma è 3 a 0 ciberto silva mi sta facendo impazzire la in mezzo lo botca alza la palla per mario lui va da cavara ancora per lui palla dentro per caraschella che prova ad andare da ziedischi incredibile lancio lungo del milan non ci riesce nulla quanto pare fin ad ora ziedischi palla per anghi sta dentro la palla non passa per osimen niente da fare riparte il milano palla dentro ancora raccomani recupera palla anche sta se la va a riprendere attenzione che cazzo perché che faccio così esce un primo tempo tragico 3 a 0 45 minuti da una parte eventuali cali di tensione cercare di non concedere troppo spazio agli avversari dall'altra servirà quanto meno soffrendo troppo qua in mezzo di una gara e per la verità sembra già buttata via ok a parte il milano che prova ad attaccare subito chiaramente attenzione vuole tracca maniere come la palla anghi sta palla per ziedischi dentro per caraschella si ferma caraschella prova a prendere un po di campo cavara dentro per ziedischi che prova ad appoggiare a politano anghi sta lo botca dietro per natan vada mario lui scende lui cerca ziedischi tacco per osimen vada politano che penetra michael quantomeno stiamo tentando di costruire qualcosa adesso digno vada gullit anghi sta palla per osimen si giro simen va dentro da ziedischi la palla non passa per un nulla attenzione grande cura di raccomani anghi sta vada o si dentro per caraschella la palla non passa attenzione è nata non ho due qui se ne va ancora con l'età quel santissimo con l'età e poi di lorenzo all'arga malissimo che cazzo ha preso ragazzi verrà poi raccomani chiudiamo su digno la palla finisce a bullet però ovviamente poi anghi sta palla per di lorenzo riesce ad appoggiare finalmente allo botca perdiamo l'ennesimo pallone attacco ragazzi raccomani errore ancora in impostazione e ancora errore in impostazione ragazzi veramente veramente tragica questa partita fina dura palla dentro attenzione anghi sta se la politano ziedischi mamma mia ti accettano tutto ragazzi ti accettano tutto lo botca palla per ziedischi prova ad alzarla per politano niente da fare è abbastanza evidente sa vergomi qui anche sarà palla e prova ad andare subito da caraschella per rubare un po il tempo di gioco ora va dentro da ziedischi passaggio inconcepibile cioè ha fatto una cosa che non ha senso anche a livello fisico proprio lo botca poggia ziedischi prova ad andare subito da matteo politano 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 prova il cross di destra matteo politano alla sporcata niente da fare gol it salta indisturbato praticamente lo botca prova ad andarsi rubare la palla ma è anche sfortunatissimo se ne va nemar attenzione lo botca viera proviamo a scendere noi raccomani nemar calcio d'angolo calcio d'angolo c'è un po diego questa volta mettiamo un po gong stanchissimo politano metti la spadurino mettiamo anche il ciolito così onestamente non sta facendo un cazzo metto caciusse che anche se è distrutto e l'ultimo cambio sarà niente popo di meno che niente popo di meno che probabilmente pasqualino mazzocchi assolutamente sia al posto di raccomani che più stanco di nata andiamo così a chiudere la partita e stiamo meritatamente perdendo per il momento 20 minuti alla fine bandierina per il milan palla dentro di lorenzo la palla passa meret quantomeno la blocca e vada al sciolito simione che la gira in gong scende in gong gong prova il dribblare se ne va a provare ad appoggiarla mazzocchi niente da fare mazzocchi resta un po piantato a terra purtroppo maradona di lorenzo si è anche sfortunato qui di lorenzo nata devi chiudere su kimmich attenzione kimmich nata nella chiusura palla nostra nata prova andare da lo botca che alza questa palla per maradona niente da fare caciuste non ci riesce nulla di lorenzo caciuste palla per gong vada caciuste la palla non passa ragazzi non è mai passata quella palla le hanno prese tutte i loro centrocampisti tutte natan caciuste niente da fare c'è sempre viera nulla da dire ragazzi nulla da dire caciuste ancora il sciolito simione vada maradona prova a dribblare maradona c'è fallo su diego e quindi andata bene poteva essere punito con il cartellino fallo su diego lo botca cercherà direttamente il sciolito simione che prova ad appoggiare non ci arriva nemmeno simione questo la palla incredibile e lancio lungo attenzione attacca ancora il milan mario lui copre la palla lui dentro per il sciolito simione prova ad andare da caraschiella circa mario lui mario lui cross in mezzo c'è un gong ma c'è ovviamente smichel che prende anche questa prova ad andarsene romario di lorenzo prova a chiudere romario ancora romario di lorenzo non riesce a prenderlo caciuste nemmeno a spostarlo adesso la recuperiamo con caciuste che prova a portare palla a larga per mazzocchi scena mazzocchi un po di campo pasquale mazzocchi dentro dal sciolito che cosa ha preso maldini ragazzi che cosa ha preso maldini ragazzi palla dentro mario luere come la palla verrà ancora ragazzi hanno intercettato di tutto c'è veramente hanno intercettato di tutto attenzione lo botca chiude natan palla per diego maradona che scende l'appoggio a caraschiella scende caraschiella dentro per mario lui secondo me lì c'era comunque fallo su cara ma niente da fare sarà anche abbattuto attenzione maradona dentro per caciuste che cerca il passaggio filtrante niente da fare partitaccia contro il milan 3 a 0 ci hanno un po' socclassato ma in realtà abbiamo perso a centrocampo ragazzi quando ci sono giocatori giberto silva e vera insieme sono il cancro dell'umanità comunque ci vediamo la prossima puntata vabbè ci può stare una curiosità ah ecco ecco questo è uno che classifica 3100 un po' bene ah